Con lunedì 5 ottobre 20.40 si parte, 10 telemissioni, una durata di un 15-20 minuti l'una per trattare i temi che riguarderanno il nostro futuro, soprattutto dopo il post-covid che va a modificare completamente quella che è l'economia, quello che è il mondo della formazione, quello che è il mondo della finanza, non solo all'interno chiaramente del nostro contesto ma a livello internazionale. È un format nuovo, è un format che abbraccia soprattutto un approccio mediatico con due materi importanti come Telefriuli e come Messaggero Veneto. Le trasmissioni saranno appunto riprodotte con interventi di contributi, di personaggi conosciuti a livello nazionale, internazionale ma anche con le nostre istituzioni, con i nostri imprenditori. Pre-covid avevamo ritenuto che il format dei convegni, dei congressi, degli incontri fosse un format superato e già allora avevamo pensato di utilizzare degli strumenti media. Chiaramente la televisione, pur essendo uno strumento non nuovo, è quello che ti dà una maggior diffusione e che può portare a conoscenza della maggior parte della platea della nostra popolazione regionale e quelli che sono i contenuti che vogliamo affrontare in questo Future Forum edizione rinnovata.